È accusato di essere uno dei ladri che avevano rubato nove motori fuori bordo a San Feliciano sul lago Trasimeno lo scorso mese di luglio, rintracciato e denunciato dai carabinieri di Cortona. Il fatto era accaduto il 5 luglio scorso, l'auto era stata intercettata a Foiano della Chiana e fermata. Gli occupanti erano però fuggiti a piedi abbandonando la refurtiva, ovvero nove motori sottratti alle imbarcazioni sulla Darsena per un valore di 90 mila euro, poi restituiti ai legittimi proprietari. Le indagini hanno portato ad individuare uno dei sospetti responsabili, ovvero un ventenne di origine romena che è stato denunciato, mentre sono in corso le ricerche anche con l'aiuto di chi avesse subito furti nelle proprie abitazioni del complice del ventenne.